Sono Camilla Tronti e mi occupo di marketing e comunicazione per Elga Lab Water. Elga Lab Water è una società che si occupa della produzione di strumenti per la produzione di acqua pura e ultra pura ad uso laboratorio. Siamo qua oggi per promuovere i nostri prodotti e per far conoscere la nostra realtà nel mondo della chimica e della farmaceutica. Il discorso di oggi verterà sulla presentazione dei nostri strumenti e la loro possibile applicazione nel campo della chimica e della farmaceutica. È possibile trovare Elga Lab Water online sul sito elgalabwater.it oppure su LinkedIn, ci trovate come Veolia Water Technologies Italia perché Elga Lab Water fa parte di un gruppo, il gruppo Veolia e in Italia il gruppo Veolia è rappresentato da Veolia Water Technologies Italia che racchiude le realtà del gruppo qua in Italia. Inoltre abbiamo anche un canale YouTube che è sempre Veolia Water Technologies Italia. Grazie a tutti.